elenchi a discesa collegati tra di loro in cascata su excel ben trovato su excel ha sempre ragione se non mi conosci io sono marco in arte macro braglia e sono un esperto di excel e di automazione con le macro prima di iniziare con questo tutorial ti voglio ricordare di fare addirittura due cose la prima è quella di iscriverti al gruppo facebook excel ha sempre ragione dove riceverai subito un fantastico corso in regalo e potrai interagire direttamente con me e chiedermi quello che vuoi la seconda è quella di iscriverti a questo canale youtube utilizzando la campanella che trovi qua sotto il video per non perderti nessuno dei miei prossimi tutorial procediamo e andiamo direttamente su excel questa volta per vedere qual è il risultato finale che noi vogliamo ottenere noi vogliamo essere in grado di avere tre livelli di scelta scelta 1 scelta 2 scelta 3 collegati tra di loro mi spiego meglio subito vogliamo nel primo livello di scelta poter scegliere l'area nord centro sud o isole nel secondo livello di scelta vogliamo poter scegliere tra le regioni che ci sono di quell'area lì quindi se scelgo nord tra queste regioni se scelgo centro tra queste eccetera e come terzo livello vogliamo poter scegliere tra le province della regione che abbiamo scelto a secondo livello che fa parte dell'area che abbiamo scelto al primo livello ovviamente per questo video abbiamo messo solo due regioni con tutte le province perché il procedimento è esattamente lo stesso anche per le altre 18 regioni italiane cancelliamo le freccione e andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare come prima passo come primo passo che è preparare gli elenchi con nome di appoggio abbiamo già visto in un video precedente sei modi per poter fare un elenco a discesa semplice con excel te lo linko in descrizione se te lo sei perso corri a vederlo per questo video non è l'oggetto di questo tutorial e quindi daremo per scontato che sappiamo fare gli elenchi a discesa in tutti i modi possibili per fare questa questa cosa qua di oggi utilizzeremo un solo modo di quei sei lì che è quello del dell'elenco con nome quindi andremo a creare degli elenchi con nome di excel per farlo se non hai visto il video precedente dobbiamo andare nella sezione formule di excel nomi definiti quindi qui la sezione formule nomi definiti questa sezione qui andremo ad utilizzare la sezione il comando crea da selezione che in una botta unica ci permetterà di creare tutti e sette i nostri nomi ovviamente accettando una piccola imprecisione nel senso che avremo alcuni nomi essendo che non tutti hanno la stessa lunghezza avremo alcuni nomi con delle delle voci bianche ok delle delle parti dell'elenco che sono bianche quindi saranno più lunghi di quello che servono ma per far prima lo possiamo accettare andiamo quindi a cliccare crea da selezione excel ci chiede crea i nomi da da questa selezione qui di dati che hai fatto dove trovo i nomi da dare agli elenchi e diciamo di trovarli nella riga superiore diamo ok e se noi adesso andiamo in gestione nomi ecco qua che lui ci ha creato i sette nomi qui sono in ordine alfabetico abbiamo l'area nord centro sud abbiamo le tre aree no le quattro aree nord centro sud e isole e le due regioni quelle province chiudiamo questo e passiamo al prossimo punto che è quello per creare il primo elenco a discesa utilizzando la convalida dati è esattamente uno dei metodi che abbiamo visto nel video precedente lo ripetiamo per completezza in questo tutorial per farlo dobbiamo andare come sempre nella sezione dati strumenti dati e c'è questo pulsantino qui con la spunta verde e il divieto rosso che nel mio caso è un pulsantino perché ho rimpicciolito excel sullo schermo per poter registrare agevolmente il video se voi avete excel a tutto schermo ci sarà proprio scritto convalida dati andiamo a selezionare la nostra cella dove vogliamo che avvenga la convalida dati dove vogliamo che venga fuori il nostro primo elenco a discesa e andiamo a fare convalida dati consenti da elenco e qui andiamo a mettere il nome che abbiamo dato al primo elenco con nome che è area diamo ok ed ecco qua che abbiamo il nostro elenco vedete quello che vi dicevo essendo che li abbiamo fatti tutti con un comando unico qua ci sono delle voci vuote possiamo accettare tranquillamente questa imprecisione per il video andiamo a selezionare nord e ora vogliamo che qui nella seconda casellina vengano fuori le regioni che fanno parte dell'area nord quindi andiamo avanti e andiamo a vedere come collegare gli altri elenchi attraverso la funzione indiretto torniamo su excel e andiamo qua sempre nella nostra sezione dati convalida dati facciamo consenti da elenco ma questa volta dobbiamo utilizzare un bel formulone che è indiretto aperta tonda e andiamo a cliccare la cella dove troviamo l'elenco di livello superiore da cui quindi l'elenco di queste voci qui dipende andiamo a cliccare qua vedete che lui mi mette l2 con i dollari per bloccare le formule anche qua se ti sei perso il video su che cosa sono e come si usano i dollari nelle formule te lo linko in descrizione e vai subito a vederlo diamo l'ok e vediamo come avendo scelto nord qui sotto compare magicamente l'elenco delle regioni che sono presenti nell'area nord se noi andiamo a scegliere centro ci dà le regioni che sono al centro finiamo di fare i test anche con sud se ce la facciamo e isole dove ci sono le nostre due sicilia e sardegna come sempre con gli spazi vuoti perché hanno lunghezze diverse come immaginerete anche il terzo livello si fa nello stesso identico modo quindi andiamo a fare con vai da dati di nuovo facciamo da elenco e utilizziamo il mitico formulone indiretto aperta tonda e andiamo a cliccare stavolta questa cella qua quindi l4 diamo ok mi restituisce un errore attualmente ve lo porto qui davanti al mio faccione perché la cella è vuota quindi diamo ok e non ci preoccupiamo andiamo a scegliere prima il nostro allora emilia romagna sono nel nord andiamo a scegliere emilia romagna ed ecco qua che compariranno le province dell'emilia romagna non gli piacciono le province dell'emilia romagna andiamo subito a fare debugging perché so già qual è l'errore andiamo in gestione nomi e vedete che il nome ha l'underscore emilia romagna quindi il titolo della colonna non accetta lo spazio vuoto emilia romagna quindi noi qui per correggerlo on the fly come dicono gli awanaganas ci mettiamo qua emilia romagna così che noi lo possiamo andare a scegliere dall'elenco in modo corretto ed ecco qua che compaiono le province dell'emilia romagna quindi abbiamo correzione indiretta andiamo a scegliere il sud e andiamo a scegliere la basilicata ed ecco qua che compariranno le uniche due province della basilicata potenza e matera per questo video ci fermiamo qua ti ricordo anche in chiusura di entrare nel gruppo facebook excel ha sempre ragione per ricevere subito un fantastico corso in regalo e interagire direttamente con me e di iscriverti a questo canale youtube utilizzando la campanella per non perderti nessuno dei miei prossimi tutorial su excel e ti voglio ricordare ovviamente che excel ha sempre ragione e 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